We are, we are, we are, we are through to present Lanciafiamme e il mitragliatore che si possono trovare in mappa e dopo vi spiego meglio come Allora ragazzi cosa c'è da dire sulle classi assalto? Innanzitutto volevo fare una piccola parentesi che non ricordo benissimo se l'avevo specificata in maniera dettagliata nello scorso video ma lo specifico adesso Allora ragazzi le armi come avevo detto in casa nello scorso video diciamo che sono di meno rispetto agli altri battlefield Non avremo quella grande quantità ma soprattutto ognuna di queste si divide in base agli accessori che già ha premontati Ad esempio come potete vedere adesso io adesso stavo cambiando fucile e ce ne erano due uguali che erano sempre in 1907 solo che c'era l'automatico e il factory L'automatico aveva la funzionalità del fuoco automatico ovvero se voi tenevate premuto R2 questo sparava in sequenza con la stessa cadenza Con la cadenza massima che essendo sempre un fucile che spara un colpo Il factory invece non aveva questa funzione quindi dovete essere voi veloci a schiacciare il dito E qui va a preferenze Tuttavia ci sono fucili e questo vale ovviamente per tutte le classi che si distinguono per i mirini che montano sopra Ad esempio dopo l'aggiornamento che hanno fatto qualche 3-4 giorni prima della fine della beta Io purtroppo l'ho potuto provare solo il giorno prima che finisse Anzi il giorno stesso che finisse verso la mezzanotte perché ero tornato quel giorno Avevano inserito un sacco di armi C'è un'arma in più più o meno per ogni classe esclusa per l'assalto E con varie varianti Ad esempio avevamo questo fucile che io adesso sto usando Però ho montato sopra un mirino da cecchino Diciamo che questa funzionalità permette appunto di usare quest'arma anche dalla distanza Però diciamo che io non mi trovo per nulla comodo E diciamo che in parte ha confermato i miei pensieri negativi Ovvero che le armi diverse si ci saranno ma che non sarà possibile modificarle in maniera più specifica Nel senso mettere un caricatore aumentato, un mirino come lo vuoi tu Un calcio diverso, poi tutto è possibile ma l'avevo difficile perché comunque ragazzi Nella prima guerra mondiale diciamo che la customizzazione delle armi era ovviamente più limitata A tutti veniva data un'arma e dicono Yeah, vai Ok, però tutto è possibile magari per renderlo più competitive, più personale lo faranno Ma del sincero inizio a dubitarne Anche se dopo l'aggiornamento appunto c'era premuto, c'era, si poteva premere il triangolo Per modificare la classe e visualizzare appunto delle modifiche Però diceva ovviamente questa opzione non è disponibile nella beta ma sarà disponibile nel gioco finale Io penso che sia una questione di mimetiche perché comunque hanno confermato la presenza di mimetiche La presenza del logo sull'arma come si può anche vedere adesso che è semplicemente il simbolo della propria fazione Però diciamo che non è detto che siano solo questi Potrebbero anche esserci vere e proprie modifiche ma io ne dubito appunto Allora ragazzi parliamo del medico Il medico monta dall'inizio una siringa per rianimare i compagni Che può essere benissimamente eguagliata appunto al defibrillatore di Battlefield 4, Battlefield 3 e così via E un sacchetto delle medicine Un sacchetto di medicine a differenza del vero e proprio No, il pacchetto delle medicine invece dalla sacca di medicine Questo perché solitamente negli altri Battlefield fin dall'inizio vi veniva dato il sacco Ovvero un vero e proprio sacco gigante Che poteva curare più persone contemporaneamente Qui invece no, il sacco si può sbloccare E all'inizio voi avrete disponibile solo il pacchetto Ovvero un singolo pacchetto che voi lo lanciate Può essere utilizzato da una sola persona Intanto qui ragazzi come appunto vi stavo mostrando, vi stavo dicendo Abbiamo, ho raccolto un lanciafiamme E come questo ci sta anche una mitragliatrice pesante Che può essere utilizzata da singole persone Non so ogni quanto tempo spawna questo particolare tipo di oggetto Vi dico che è molto forte perché come potete vedere aumenta di parecchio la vita E poi il lanciafiamme è veramente OP Come anche la mitragliatrice E riassumiamo molto brevemente quello che penso dei fucili d'assalto E che sono, con dei mirini sono molto difficili da usare Ragazzi qui i mirini metallici sui fucili d'assalto Sui fucili scusatemi del medico sono molto meglio Perché diciamo che sballano parecchio Non sono molto precisi a causa del fatto che fanno un bordello di danni Cioè con tre colpi, quattro, già sei giù E li sparano anche abbastanza velocemente Se li mettiamo anche una mira perfetta Siamo fottuti Quindi diciamo che hanno reso la fisica del proiettile molto particolare E di conseguenza molto sballata E avere un mirino come anche quello che avete visto all'inizio sul rigotti Che poteva essere un mirino laser scrauso Diciamo che è molto molto forte se fosse preciso Ma così non è E di conseguenza quello che io vi consiglio è montatevi un mirino metallico Anche se dopo l'aggiornamento Molti riescono a giocare con un mirino a cecchino Ma io veramente non riesco a capire come ho provato Non ci sono riuscito minimamente Il feeling delle armi è molto bello Però diciamo che dalla distanza ravvicinata Crepate facilmente contro un MP18 A meno che non siete diciamo Fortunati più che attenti Intanto qui potete continuare a vedere la strage Che ho fatto con sto cazzo di lanciafiamme Ho distrutto, ho fatto non so quante kill Ma parecchie Era veramente forte Comunque ragazzi il video è finito qui Io spero vi sia piaciuto Lasciate un like, un commento E noi ci rivediamo con il video dello supporto Stavo dicendo lo scout ma è del supporto E ciao ragazzi